Gente strana in piazza Castello, cosa fanno? Ed eccoci al teatro Astro. I corti dedicati alla danza in video di Francesca Pedroni. Stiamo per assistere all'incredibile spettacolo del 1927. Non mi ricordo, sai che io non studio mai prima. Applausi alle danzatrici nude di Karen Levy. Il mattino dopo nella caffetteria reale in centro a Torino incontro con gli artisti e con il direttore del festival Beppe Navello. Sospesa nella tela del ragno la finlandese Ilona Janti. La bellissima Marie Font trova il suo punto di sospensione. E per finire tutti a cena nelle cucine del castello. Grazie. 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 Grazie.